Sarà sentito domani dal GIP del Tribunale di Arezzo Stefano Cascone Alessandro Sacchi, l'ottantenne aretino che ha sparato uccidendola alla moglie 72enne Serenella Mugnai. Alessandro Sacchi, rappresentato dagli avvocati Piero Melani Graverini e dal nipote Stefano Sacchi, risponderà alle domande del giudice. All'origine dell'omicidio ci sarebbe la malattia della donna che da tempo aveva reso difficile la vita della coppia. Attualmente Alessandro Sacchi si trova in carcere ad Arezzo ma dopo l'udienza potrebbe uscire dal momento che non sussistono i presupposti per la custodia cautelare in carcere. Escluso che possa tornare nella propria abitazione di Viale Giotto ad Arezzo dove alla mezzanotte e mezza di venerdì scorso è maturato il delitto e che è dunque stata messa sotto sequestro. Si valuta la possibilità di una residenza sanitaria assistita per essere seguito da personale specializzato. L'inchiesta sull'accaduto è coordinata dal sostituto procuratore Marco Dioni. Si procede per omicidio volontario aggravato dal vincolo del matrimonio. Nella stessa giornata sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima.